Ben ritrovati da Andrea Lazzara con le previsioni del tempo di Arpal, dunque ancora modifiche a quello che è lo schema dell'allertamento per le prossime ore. Vediamolo nel dettaglio, zona A allerta gialla dalle 18 di oggi sabato alle 15 di domani domenica, 5 zone B, D ed E, allerta gialla dalle 18 alle 21 di oggi sabato, allerta arancione dalle 21 di oggi alle 15 di domani domenica 5, mentre per la zona C allerta gialla dalle 18 alle 23 e 59 di oggi sabato 4, allerta arancione da mezzanotte alle 15 di domani domenica 5 novembre e poi allerta gialla dalle 15 alle 18 sempre di domani domenica. Situazione dunque in evoluzione per l'arrivo di una perturbazione atlantica che genera un minimo depressionare in approfondimento sul Mar Ligure. Dunque le previsioni oggi sabato 4 novembre molto nuvoloso con piogge sparse anche a cratere di rovescio temporale dal tardo pomeriggio, possibili temporali forti più probabili in serata sulle zone centrali, peggiora nella notte, venti tramodelati e forti con locali rinforzi dai quadranti settentrionali sul centro ponente, da sud est sul centro levante, mare mosso in aumento, temperature massime in diminuzione lungo la costa tra 16 e 20 gradi, nelle zone interne tra 12 e 16 gradi, domani domenica 5 novembre, perturbato con precipitazioni diffuse su tutta la regione, temporanea attenuazione dei fenomeni nel corso del pomeriggio a iniziare dal ponente dove ripeggiora in serata, venti al mattino settentrionali, forti sul centro ponente fino a burrasca da sud est sul levante, mare molto mosso per onda meridionale fino a localmente agitato sul centro levante, temperature minime in diminuzione lungo la costa intorno ai 14-15 gradi, nelle zone interne tra 7 e 10 gradi, massime in diminuzione lungo la costa tra 16 e 19 gradi, nell'interno tra 12 e 15 gradi. Chiudiamo con lunedì 6 novembre ancora in stabilità con possibili piogge generalmente deboli, più probabili sui versanti padani, venti da moderati a forti settentrionali con raffiche di burrasca specie sul centro ponente, mare molto mosso, stirato sotto costa fino a molto agitato o grosso a largo per onda da nord, temperature minime in diminuzione lungo la costa tra 8 e 10 gradi, nell'interno tra 2 e 4 gradi, massime in diminuzione lungo la costa intorno ai 13-14 gradi, nell'interno tra 6 e 11 gradi. Seguite tutti gli aggiornamenti sul sito www.arpal.gov.it e sulla pagina facebook di Arpa la risentirci.